Sì, mi chiede che mi porto di accordo totalmente con la mia scuola di casa. È preso e implementazione che non mi fa con la scuola che è ridicola. Mi chiede che mi chiede che non siamo in scuola cattolica. Che è uscì, è là un giorno in Xternastica e quindi è un giorno di scuola di scuola come tutte le scuola del regno. E anche qui, in questo caso qui è un giorno più a più il rispetto della scuola di scuola di sarebbe stato un giorno e quindi ho fatto quanto doi scuola anche un valore di scuola e ho fatto un valore di spuola come faccio e credo che allora è questo quindi mi chiedeva è una cosa condenabile, per lo che nel momento in cui la scuola sta facendo un quadro di aumento di scuola che ha fatto, e è una cosa che bisogna dire che il maggiorno non deve essere accettato qui, assolutamente. Mi chiede di aver guardato l'observazione, per lo che la scuola sta dando come declarazione, ma non è da una cosa per scritto, è una forma di documento, per se è una instanza di cui conserni, per fare un'analisi, lo che si scuola attabilisando verbalmente. Per una forma di correggita, noi come parte del sindicato, ci sono attabilizzati che il documento che si è guardato per scritto, per avere un controllo, come ho parlato di un rato passato, la parte di l'administrazione e le finanze con la scuola di gestione. E questo è quello che vogliono anche nel Departamento di Governo, con 5 anni di gestione, per arrivare la declarazione che la scuola sta donando, per la situazione che mi non stanno pensando nel momento che è qui. Questo è il primo instante, è il primo instante, e che vogliono avere il lavoro, o recentemente, pese a che abbiamo implementato e aumentato il lavoro di migliorare, non ci vogliono, e ci vogliono con la maniera corretta di trarmi, come nella nostra vista, che abbiamo documentato il tour e l'argo un'instante autorizzata che il Governo faccia su analisi di situazione administrativa e di finanze della scuola. in questo caso, in questo caso, in questo caso, la scuola sta trascendo di l'argo, se questa è la verità, sì o no.